Musica Ben trovata a Star News Flash della domenica. Prima di fare ruzione nell'appartamento del pusher a Biancavilla, i carabinieri si sono più volte appostati in una via limitrofa, consta tanto un continuo via vai di giovani che in poco tempo entravano ed uscivano in modo alquanto sospetto dal portone di accesso del condominio. Queste le modalità operative riguardanti l'ennesima azione di contrasto inferta al fenomeno del traffico di droga, principale canale d'approvvigionamento della criminalità organizzata da parte dei carabinieri della stazione di Biancavilla, che hanno appunto arrestato un pregiudicato del posto di 30 anni, che dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari della locale stazione, durante mirata attività investigativa, hanno effettuato diversi servizi di osservazione presso l'abitazione dell'uomo, che si ipotizzava potesse proprio servire da sito per lo stoccaggio della droga. Nel corso di queste attività svolte, i carabinieri sono stati soprattutto insospettiti dai movimenti di quel trentenne disoccupato, a loro già noto per via delle pregresse vicende giudiziarie, che entrava ed usciva specialmente in orari notturni da quell'alloggio, compresi e definiti tutti i dettagli del quadro investigativo, hanno così deciso di intervenire avvalendosi per il blitz anche del supporto specialistico dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi e di quelli dello squadrone li portato cacciatore di Sicilia. Mentre quindi una prima liqueta di militare si è occupata di cinturare e mettere in sicurezza l'area circostante l'abitazione dell'uomo, al fine di impedirne l'eventuale fuga, un secondo team si era invece spostato nelle vicinanze, in attesa che il sospettato uscisse. L'unico momento propizio questo per passare all'azione, poiché il busher aveva installato due telecamere all'ingresso di casa. La cosiddetta bussata alla porta gli avrebbe pertanto consentito di accorgersi della imminente irruzione, rendendogli agevole di sfarsi della droga. L'attesa dei carabinieri è terminata alle 5 del mattino, quando l'uomo uscito di casa è stato improvvisamente circondato dagli investigatori, che lo hanno fermato e ricondotto all'interno dell'appartamento per procedere alla perquisizione. In quel momento il trentenne, per tentare di sviare i carabinieri, li ha subito condotti in una cameretta e dopo aver prelevato da un cassetto due dosi di marijuana del peso di 2 grammi, avvolte in carta stagnola, le ha spontaneamente consegnate loro, asserendo che non aveva nient'altro in casa. I militari però hanno continuato le ricerche, iniziando dal perquisire proprio quella cameretta, dove in un secondo cassetto hanno trovato 690 euro in banconote da 50, 20, 10, 5 euro, e nella camera da letto dell'uomo, dove hanno recuperato un cofanetto che conteneva altri 135 euro. Nel frattempo, nel giardino retrostante dell'abitazione, si sono messi all'opera i cani antidroga, che hanno setacciato una stalla e un rudere. E se nella stalla è stato rinvenuto soltanto un rotolo di carta stagnola, solitamente adoperato per incartare stupefacenti, nelle rudere invece, nascoste nell'intercapedine di mattoni che funge da camera d'aria, erano nascoste 21 dosi di marijuana del peso di circa 40 grammi, oltre ad un bilancino di precisione. L'infallibile fiuto dei cani antidroga ha poi condotto i militari sino al muro a secco che recinta la proprietà, dove, scavando fra le pietre, è venuta fuori una busta sigillata termicamente, con all'interno ulteriori 100 grammi di marijuana. Infine, nell'andare via dallo stabile, i cani hanno fiutato tracce di droga anche nella busta dell'immondizia, che era stata lasciata davanti l'ingresso, dove, aprendola, i carabinieri hanno trovato anche là residui di marijuana. La droga ha trovata complessivamente quasi un etto e mezzo e gli 825 euro sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha poi convalidato l'arresto. Ancora un grave episodio di violenza paternò registrato fra extracomunitari. Un uomo è finito in ospedale a Catania per una ferita d'arma da taglio riportata ad una coscia. I fatti sono accaduti ieri sera, tra piazza Indipendenza e le vie Limitrofe, dove, a seguito di una furiosa lite, dapprima iniziata verbalmente, si è poi aggravata passando alle mani. Ad un tratto uno di loro avrebbe tirato fuori un oggetto da taglio, forse un coltello, ferendo seriamente il condundente ad una coscia. Sarebbero stati alcuni cittadini ad allertare i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della radiomobile della locale compagnia ed un'ambulanza del 118. Giunti sul posto si è solo trovato il ferito a terra. Il personale sanitario lo ha subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale paternese. Da qui poi la decisione dei medici di trasferirlo d'urgenza al San Marco di Catania, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla coscia per via della profonda ferita riportata. Le condizioni di salute dell'extracomunitario non sarebbero gravi e non sarebbe dunque in pericolo di vita. I carabinieri intanto stanno indagando per intracciare l'autore del gesto, un altro grave fatto di violenza dunque che si registra in città. Dopo l'uccisione del 26enne marocchino con una coltellata al cuore da parte di un suo connazionale 36enne, avvenuta domenica 4 febbraio, omicidio scaturito per dissidi legati al mondo del caporalato, in città si continuano a registrare casi di violenza. Risse, danneggiamenti, stati di ubriachezza, con comportamenti non consoni al vivere civile, molesti e quant'altro. In questi giorni si sta parlando tanto della decisione del sindaco Nino Naso di voler sgomberare e abbattere la baraccopoli di Ciappe Bianche. Infatti il primo cittadino ha firmato un'apposita ordinanza in merito. Decisione però contestata da un cartello di associazioni, parrocchie, caritas, sindacati e parte di forze politiche. Tutti concordi nel fatto che prima bisogna trovare una soluzione alternativa in merito all'alloggio dei circa 150 migranti che attualmente affollano la baraccopoli in uno stato di totale degrado. Per farli stare in un luogo decente e anche per evitare che si verifichino situazioni spiacevoli visto che essendo senza alcuna dimora alcuni possono finire col vivaccare nelle vie e nelle piazze della città. Intanto l'ordinanza del sindaco Naso è stata stoppata dal prefetto che per mercoledì 6 ha convocato tutti gli attori attorno ad un tavolo proprio per discutere di come affrontare l'emergenza baraccopoli ma anche il lavoro nero e l'ordine pubblico che negli ultimi giorni sta creando non poca preoccupazione fra i cittadini paternesi. Maxi Rissa ieri sera intorno alle 20.45 all'esterno del McDonald's di Etnapolis a Belpasso. A darsele di santa ragione sono stati dei giovanissimi, tra loro anche i minorenni, botte e minacce lanciate reciprocamente da quelli che sembravano essere due gruppi a contendersi. La Rissa ha creato un clima di tensione fra i presenti. A Biancavilla una donna è rimasta ferita ad una mano a seguito dell'aggressione di un cane randaggio che si sarebbe scagliato contro la cagnolina della signora. I fatti questa mattina nella zona sopra l'ospedale. Ad intervenire sono state le guardie zoofile della GEPA. Il randaggio, senza microchip e particolarmente aggressivo, come raccontano le guardie, si sarebbe introdotto nella proprietà della donna assalendo la cagnolina che è rimasta ferita vistosamente ad un occhio. Nel tentativo di sottrarla all'aggressione la donna sarebbe rimasta ferita ad una mano da un morso della cane. Il figlio della donna nei momenti concitati è riuscito a bloccare il cane aggressore con una corda legandolo poi ad un palo, allertando nel contempo la polizia locale per raccontare l'accaduto. Sul posto, attivati dal comando municipale, è poi arrivata la GEPA che si è presa carico del cane per trasportarlo in un luogo sicuro. La donna, intanto, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale per farsi disinfettare e medicare la ferita. Segnalazioni alla nostra redazione in merito ad un stato di degrado che persiste nella zona conosciuta come Ucchiano dei Malati, a sud del centro abitato di Santa Maria di Licodia. Sussistono anche situazioni di pericolo. In strada, infatti, ci sono anche dei tombini scoperti. Un vero e proprio pericolo per gli automobilisti in transito e non solo. Inoltre, sempre nella zona, sono presenti anche delle microdiscariche spesso date alle fiamme ed erbacce che invadono parte della carreggiata. I cittadini, che ci hanno segnalato lo scempio, raccontano di aver fatto segnalazione al comune un anno fa, ma nessun provvedimento è mai stato messo in atto. Quindi, attraverso Videostar, lanciano un nuovo appello all'amministrazione comunale licodiese affinché faccia qualcosa in merito. Gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo hanno partecipato ad un incontro sulla sicurezza stradale che si è svolto nell'Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo di Paternò. L'incontro è stato fortemente voluto dagli stessi studenti che hanno dimostrato un particolare interesse per il tema della sicurezza stradale. L'iniziativa è stata pienamente sostenuta dalla dirigente scolastica fortemente convinta dell'importanza di sensibilizzare i giovani su questo tema cruciale. I poliziotti si sono intrattenuti con gli studenti concentrandosi sull'importanza del rispetto delle regole del Codice della Strada. Questo argomento è stato particolarmente sentito dalla comunità studentesca che ha recentemente subito una dolorosa perdita con la scomparsa di Riccardo, uno studente dell'Istituto avvenuta lo scorso novembre. Il comandante del distaccamento, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato quanto sia necessario il rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. I poliziotti hanno inoltre insistito sul senso di responsabilità che deve guidare il comportamento di ciascun individuo, consapevole che le proprie azioni possono avere conseguenze gravi e irriversibili non solo per se stessi ma anche per gli altri. Questo momento di condivisione ha permesso agli studenti di riflettere sull'importanza di adottare dunque comportamenti responsabili e consapevoli quanto si è al volante, contribuendo così a prevenire gli incidenti e a proteggere la vita di tutti i cittadini. Sarà inaugurata domani mattina a Paternò la Casa dell'Acqua. Il punto di approvvigionamento è stato realizzato nel Viale dei Platani. All'inaugurazione domani mattina interverrà fra gli altri anche il sindaco Nino Naso. All'inaugurazione domani mattina interverrà fra gli altri anche il sindaco Nino Naso.